anzi va a migliorarsi, aveva 12.58 Lucrezia e Sartori ora, era in testa dopo i primi tre salti adesso è terza e anche il terzo posto ha vacillato dopo il 12.62 di Veronica Vialetto e attenzione a questo salto di Sartori che rischia di compattare ulteriormente il gruppo in testa nei piani alti delle graduatorie di questa gara siamo al quinto turno di salti, rendere agonisticamente scoppiettante la sesta prova vediamo 12.65 comunque Veronica Vialetto, altre tre centimetri di primato personale Lucrezia Sartori quindi si è confermata campionessa italiana dopo il titolo vinto al coperto era tutt'altro che scontato soprattutto quando si è in un concorso in cui c'è tra l'avversario Veronica Zanon e un altro bel salto per Sartori che arriva forse attorno ai 12.80 con questo triplo balzo mentre c'è stato l'avvicinamento della gara del 3.000 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti